musica 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 di fatto non potevamo fare altri mesi il 2017 era non di più Casale Monferrato che parido quarto della Junior che schiacciata da parte di Sandy Marcius fa quello che vuole musica Toscano poi decide di andare dentro arriva lo steal della Severa che vuole il Ghost to Ghost schiacciata musica sempre seguito da Marino con Rossi pronto a dare un raddoppio Ferguson contro Marino la tripla di Ferguson musica Jazzmar Ferguson musica guaglia esce blocco ancora per Johnson con un casello attaccato solo Casale lascia Ebach sul posto e alla fine una stupenda schiacciata di solo Casale musica musica per Gusson anche per Tessitori riceve Bowers palone recuperato da Becchia che va a inchiodare il canestro della vittoria musica 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 comunque Lee Roberts pronto di arrivarsi si va da Raymond cancellato da Aaron Thomas musica lavoro in palleggio dipalta per Mascolo buona circolazione Nicolic prende una bella via di fondo e affonda anche lui la bimane ed eccoli qua i primi due punti del talento di Louis Willard Kentucky la stoppata di Carlo Whittle su Becchia e Roma a 9 secondi 8 7 secondi la palla va Giuliano Maresca che pesca sotto lì Roberts incredibile canestrone